Da Ilaria Capua, che com'è, no perché tu mi sgridi, mi fai, eccola là, lo sapevo, vedi, guarda Si fanno vedere i braccialetti così, no, ma insomma, prendiamoci un altro bacio di tempo Ma che bello che ti vedo, veramente, ci siamo sempre visti via Ma che emozionale, io sono molto emozionata, è bellissimo essere qui Sono felice di vederti, sono in Italia, quindi, senti Ilaria, bentornata in Italia, ti posso dire? Ci rimani, vero? Un pochino, un annetto, ho preso un anno di pausa Come mai? Eh, perché le pandemie sono eventi trasformazionali E io mi sento come, fermate il mondo, voglio scendere Sono successe tante cose, il mondo è cambiato, siamo cambiati noi Noi? Sono cambiate le comunità, è cambiato il modo di lavorare E allora stanno cambiando così tante cose che ho pensato Mi prendo un anno, perché bisogna pensarci, no? Perché se no uno dice, ma porca miseria Ilaria, cosa che prima della pandemia sarebbe stata impensabile, allora Beh, ognuno è sulla sua ruota di criceto, no? Quindi ognuno è nel suo tran tran E noi abbiamo avuto questo scossone fortissimo Che ci è capitato Altro che E che ci ha fatto piangere, ci ha fatto star male, ci ha fatto prendere paura E però adesso siamo verso l'uscita, no? Quindi Siamo verso l'uscita Ancora non siamo usciti, perché ancora ci sono tanti contagi Per cui fai bene tu Io sono, insomma, a volte sto un po' meno attenta Per insomma, la mascherina la metto Qui è molto difficile, perché poi ci si abbraccia Insomma, però dobbiamo stare ancora attenti Questa è la verità Tu oggi sei qua per parlare del tuo ultimo lavoro Perché tu lavori tantissimo, ma trovi anche il tempo poi di scrivere dei bellissimi libri Complimenti per quelli dei bambini Grazie Che tu hai fatto proprio in quel periodo lì Dove ne avevamo tanto bisogno Sai perché li ho amati molto? Perché in verità eravamo tutti un po' bambini Perché la pandemia ci ha reso così fragili Io parlo per me, poi non lo so gli altri Ma insomma, io mi sono sentita molto fragile, molto bambina E per cui i tuoi libri in quel momento lì sono stati una carezza nel cuore Lo dico sempre Questo si chiama Il coraggio di non avere paura La verità è che noi paura ne abbiamo avuta tanta Tantissima Partiamo con questo filmato proprio a proposito dei nostri collegamenti E poi entriamo proprio nello specifico del libro Vedo già la professoressa collegata Ciao professoressa, professoressa Capua dalla Florida Professoressa, lei ci ha dato tante disposizioni Diamoci del tutto Ormai Diamoci del tutto Allora, Ilaria Siamo veneta Ma sei veneta Siamo veneta Sempre un piacere parlare con te E spero di incontrarti a Roma Quando si potrà viaggiare E ritornare a una vita normale Magari ci abbracciamo E andiamo a farci una bella mangiata Una bella matriciana qua a Roma Ehi, Ilaria Allora, io propongo Caccio e Pepe E sono dell'idea che sono le donne che cambieranno il mondo Quella te la cucino io Quella te la cucino io Che è il mio piatto che mi viene meglio Allora, noi siamo entrati in contatto così E ti devo dire che ci hai aiutato tante Io ti voglio dire grazie a nome di tutti gli italiani Grazie, no, veramente No, no E il coraggio di non avere paura È quello che io ho provato Quando ho detto Io mi devo rimettere il camice Per parlare agli italiani Perché in quel momento C'era uno smarrimento incredibile E io per tanti anni ho studiato questi fenomeni Ho studiato i virus che proprio fanno Il salto dall'animale all'uomo E quindi io un po' il film me l'ero già fatto Cioè io gli scenari me li ero immaginati E quindi ho pensato Veramente adesso non si capisce niente Non si capisce Ho pensato Anche se io sono andata via dall'Italia No, e sono Lavoro negli Stati Uniti E insomma ho iniziato un altro percorso di vita Sei sempre stata vicino a noi L'aria, credimi E ho avuto il coraggio di mettermi davanti alle telecamere Dall'altra parte del mondo Perché secondo me c'era bisogno di prendervi per mano Ed accompagnarvi in qualche cosa che è sempre successo E quindi sono ovviamente degli eventi molto dolorosi e complicati Ma hanno un loro ciclo E io questo ciclo ce l'avevo chiaro in mente E quindi È tutto qua Quella raccolta delle cose che ho scritto È tutto qua È lì con anche delle spiegazioni Forse ti ricorderai che un giorno dissi Scrissi un pezzo Bisognerebbe vaccinare nei cinema E fui ricoperta di parolacce Ma il motivo per cui io dissi questo Era perché Diciamo Le persone, voi Pensavate che andarsi a vaccinare Sarebbe stato come andare dal dottore Scusami Che invece no Cioè Questa è stata una campagna di vaccinazione Come hanno fatto in America In America ovunque Anche nei bar Anche nei bar Ma tutto questo per attirare più gente Per vaccinare più persone Persone possibili C'è il mini Allora vado in un mini break L'aria per 60 secondi E poi torno da te È come fosse domenica È come fosse domenica Eccoci qua Siamo tornati con in aria capo E stiamo parlando del suo ultimo libro Il coraggio di non avere paura Stavo dicendo per ora Dottoressa Capua Che io ho ancora un po' di paura Ce l'ho Non è che proprio Anche da oggi peraltro Il green pass non serve più E quali sono le regole esattamente della mascherina Da oggi Ilaria Tu li sai Allora io Non lo so perché io ho le mie di regole Che sono le regole del buonsenso È il buonsenso che secondo me Vagano qui E ho portato una mascherina sempre Tra le... Quella lì? Questa Quando esco me la rimetto Quando vado nel supermercato Me la metto Certo Allora il virus Non va in giro da solo Il virus Lo portano in giro le persone Quindi se si va in posti Dove ci sono tante persone Che vengono da Diciamo Posti diversi Il rischio del contagio c'è Il virus non è andato via Lo teniamo sotto controllo È messo in un recinto Però cioè dai recinti certe volte Ad esempio in Cina Che sono stati così severi Adesso sta tornando Ma in Cina però Hanno usato un'altra strategia Cioè in Cina hanno pensato Di poterlo controllare Solo con il lockdown Anche perché loro hanno altri numeri I cinesi sono tantissimi Eccetera eccetera Il virus non va via Cioè il virus è arrivato E sarà con noi per tanto tanto tempo Come il morbillo Il morbillo sono 2500 anni Che vive con noi E quindi ogni tanto Vengono fuori Noi e la scienza E tutti gli scienziati Che hanno lavorato Per il vaccino Per i farmaci Per i monoclonali Per le terapie Siamo riusciti Veramente a prendere Questo toro Per le corna E metterlo nel recinto Adesso lo gestiamo Tutti insieme Comportandoci In maniera responsabile Cioè responsabile Vediamo in un filmato Allora proprio il libro Parliamo del tuo libro Che hai dedicato Ai tuoi genitori Vivere un'esperienza Che hai immaginato Per tutta una vita professionale E poi vedere L'evento catastrofico Che si srotola È di per sé Un'esperienza Che dà vertigine E nel contempo Cercare di dare Poche informazioni Chiare e strategiche Per aiutare Le persone smarrite Ad orientarsi E comportarsi Anche se molti di voi Adesso hanno le idee Molto più chiare Io vi accompagno volentieri Tra i miei pensieri Di persona informata Sui fatti Che stavano Per accadere Di quello che ci cambierà Ilaria l'hai dedicato Ai tuoi genitori Che cosa t'hanno insegnato I tuoi genitori Che vediamo Eccoli lì Il giorno del matrimonio Che belli Beh loro Io non dovevo essere Una ragazzina facile Diciamo che volevo fare Le cose di testa mia Io volevo fare Lo scienziato Volevo Volevo vivere la mia vita Sono andata via di casa A 17 anni Molti mi chiedono Io sono laureata In veterinaria Perché hai fatto veterinaria Perché volevo fare Scienza E volevo andare via di casa Ero a Roma A Roma c'era tutto L'unica cosa che non c'era Era veterinaria E quindi poi Sono entrata In questo mondo Dei virus Però Io L'ho dedicato a loro Perché questo appunto È una raccolta Dei miei scritti E Se io sono riuscita A aiutare Tante persone A Diciamo Anche comprendere La complessità Della situazione È merito loro Loro mi hanno fatto Fare quello che volevo fare Mio padre mi voleva avvocato Poi ho torto collo Diciamo Non dovevo essere Una ragazzina facile Insomma Un pezzetto di qua Un pezzetto di là C'è di di qua C'è di di là Lì ti gamuso Però alla fine Abbiamo vinto tutti Ecco E quindi per questo L'ho voluto dedicare a loro Allora Questo libro È edito da Solferino Ti voglio dire Che mi fa molto piacere Che tu sia In Italia Almeno per un anno Perché Un po' Mi dispiaceva Io so che te ne sei Andata via Con un po' Della amarezza E anche un po' Di arrabbiatura Dal nostro paese Però noi ti vogliamo bene Non te lo devi dimenticare No veramente Grazie Tutto Tutto passa Tutto si supera Ti sei presa La tua bella rivincita Però tu hai dato molto a noi Durante un periodo terribile Per cui veramente Ti vogliamo bene E grazie a nome di tutti Te lo voglio Grazie Grazie tantissime